Ciao Ranga, sono Femme Marulli e siamo al video di oggi e farò la spiegazione di Laura, ovvero una ragazza di Dragon Ball che usa sempre un fucile e spara a chiunque. Ma lei ha un segreto, ha due personalità, una buona e una cattiva. Quando è buona ha i capelli blu, quando è cattiva ha i capelli biondi. Comunque Ranga, voglio salutare in questo video, Gafur Kadrioski, Poi Sammi1995 dei Youtubers, Poi citero su fanpage forse di cinghia di Ultras. e Master Space Time. E quindi Ranga, ci rivediamo al prossimo video, ciao!